uno scatto molto commovente quello dei ferragnez che salutano rosalba la nenni che non si occuperà più di leone vittoria ma perché nessuno se lo sarebbe aspettato ed invece chiara e fedez hanno voluto salutare la tata dei loro figli in grande stile prima della partenza per una delle isole più belle d'italia i due hanno postato una foto sul loro profilo proprio per salutare e ringraziare rosalba la nenni che non sarà più al loro fianco tanti commenti anche da parte di altri familiari per due influencer con chiara e federico non poteva mancare anche la foto di addio con la tata la famiglia è partita per le loro vacanze estive e prima di volare alla volta della sardegna hanno organizzato un mini party casalingo per salutare e ringraziare la tata che li ha accompagnati in tutti questi anni tra i numerosi like e commenti al post anche quello di nonna marina che ha ringraziato la tata per la persona meravigliosa ed il riferimento che è stata durante la sua permanenza in casa tutti sembrano visibilmente commossi ma sul motivo dell'addio non è stata data nessuna informazione ufficiale cosa ci sarà dietro tanti curiosi che si sono chiesti il vero motivo dell'addio di rosalba l'influencer e suo marito non hanno fatto trapelare nulla per rispettare la privacy della tata ma sono tanti i curiosi che vorrebbero sapere con ogni probabilità però il vero motivo è di natura pratica la nenni sarebbe una puericoltrice e quindi impegnata nella fase che va da quella natale a quella della prima infanzia leone è ormai già grande e la nenni quindi non è più necessaria per la crescita del piccolo ti vogliamo bene hanno scritto nel loro post chiara e fedez grati per sempre alla dolce rosalba grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti